Il meteo a Pasqua e Pasquetta in Abruzzo. Previsioni alla mano, non dovrebbero esserci grosse sorprese. Il tempo sarà generalmente stabile per circa 36 ore. Nel pomeriggio di lunedì invece rischio pioggia. Ci spiega tutto il nostro Giovanni De Palma. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da tempo stabile nella giornata di domenica con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, ma non si prevedono fenomeni. Sarà un cielo generalmente nuvoloso con nubi medio-alte stratificate, ma anche polvere e sabbia in sospensione in quota. Quello che colpisce saranno proprio le temperature che si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali. Giovanni, la giornata di Pasqua tempo stabile. Per quel che riguarda la Pasquetta, gite fuori porta? Le gite fuori porta risulteranno a rischio soprattutto dalla tarda mattinata e poi nel corso del pomeriggio perché transiterà una veloce perturbazione atlantica che attraverserà la nostra penisola, in particolar modo le regioni centrali a partire dalla tarda mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio con nuvolosità e rovesci in arrivo a partire dall'Aquilano, dalla Marsica, dall'Alto Sangro in estensione poi verso il settore Adriatico, anche verso il Terramano, il Pescarese, il Chiatino. Inizialmente le zone pedemontane e collinarie e poi entro il tardo pomeriggio anche le aree costiere saranno interessate da rovesci localmente a carattere temporalesco. Le temperature diminuiranno a causa dell'arrivo di masse d'aria più fresca che spazzeranno via anche la sabbia in sospensione in quota. Hai parlato di sabbia e in effetti credo che questa opacità che si nota sul monitor sia proprio la sabbia, è così? Sì, proprio così si può vedere la risalita di masse d'aria calda ma anche di polvere sahariana in sospensione in quota raggiungere le regioni peninsulari, anche il centro Italia, quindi una situazione caratterizzata dalla presenza ma sì c'è anche di polvere, sabbia in sospensione in quota che rende il cielo lattiginoso di colore biancastro addirittura in alcuni casi anche colore arancione.